La morte e risurrezione di Gesù Che strazio deve provare in cuor suo Maria a vedere il suo Gesù ucciso nel modo più brutto che ci sia? Lo stringe senza vita e vorrebbe ridonargli ancora la vita. Ma tu Maria sai che il dolore della speranza è la via. Sei l'unica sicura che Gesù risorgerà, infatti dopo tre giorni così sarà. Nella gloria è risorto Gesù e tu sei diventata la madre di ognuno qua giù. L'assunzione di Maria al cielo e l'incoronazione come regina del cielo e della terra. Sei nata senza peccato e il tuo cuore è immacolato. Senza macchia sei la più pura e a te non tocca morir che fa tanta paura. Sali in anima e corpo in cielo e nel rosario questo della gloria è un mistero. Sei la regina di tutta la terra ma anche del cielo sei la più bella. Splendi in tutto il tuo splendore e riscaldi tutti i cuori con il tuo calore. Dolce Maria il rosario è chiesto come preghiera e ogni ave che sia il nostro dono più bello dalla mattina alla sera. Grazie. 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 Grazie.